C'è un codice della strada che è in via di definizione, quindi bisogna garantire sicurezza che diventa fondamentale secondo un principio di legalità e secondo un principio di giusto equilibrio con le esigenze degli enti locali. Parte da questo presupposto il sottosegretario all'interno Nicola Molteni nel commentare una vicenda che sta creando non pochi interrogativi per tutte quelle multe prese lungo arterie come la tangenziale di Treviso, su cui operano dispositivi di rilevamento autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture ma non omologati. Il caso specifico riporta l'accoglimento da parte della Suprema Corte dell'impugnazione presentata dall'avvocato civilista Andrea Nalesso, multato nel 2020 e ora protagonista con la nota sentenza di un vero e proprio spartiacque. L'autorizzazione infatti da sola non basta, ci vuole anche l'omologazione come prevede il codice della strada. Il governo agirà e lavorerà esattamente in questa direzione, in collaborazione secondo me assolutamente fondamentale con le autonomie locali, con gli enti locali. Già proprio gli enti locali ora preoccupati con i sindaci in testa per il futuro delle finanze pubbliche. Questo è un governo che ha grande attenzione nei confronti degli amministratori locali, faccio parte di una forza politica, la Lega che esprime sindaci e amministratori locali ritiene il valore dell'autonomia territoriale, un valore fondamentale di crescita, di sviluppo e di modernità. Io credo che qualunque soluzione deve essere adottata, deve essere fatta in collaborazione e in sinergia strutturale e sistemica con gli enti locali. Quindi c'era massima collaborazione e nulla verrà fatto sulla testa degli amministratori locali. Altro aspetto prioritario da non trascurare è quello della sicurezza stradale e quindi sul ruolo preciso degli autovelox. Gli autovelox, soprattutto dopo la sentenza della Corte di Cassazione, non possono essere uno strumento per fare cassa. Sono uno strumento fondamentale per garantire sicurezza, per garantire la sicurezza dei cittadini, per garantire la sicurezza stradale, per garantire la sicurezza degli utenti.